Ok ragazzi, eccoci qua, sono con il grande maestro Maffolini. Chi non lo conosce male, andatevi a informare, il grande maestro Maffolini è uno delle eccellenze del karate italiano. Fortunatamente sono stato invitato qua da lui per fare questo video e per fare un po' di karate, come sapete ogni tanto anche io mi muovo un po', e sono venuto a incontrare il grande maestro Maffolini. Chi non lo conosce, male informatevi e vi faccio una piccola carrellata io di chi è il grande maestro. Sesto Dan, uno dei più giovani maestri della Federazione Ufficiale Italiana di Karate Filcam, a prendere il grado di Sesto Dan, dottore in scienze motorie, cavaliere dello sport e palma di bronzo al merito sportivo rilasciato proprio da Alconi. Poi possiamo andare avanti, Oscar dello sport della sua città nel Bresciano, coach VKF di secondo livello e diciamo che è a capo della più grande società italiana di karate, sia come numero, si sta parlando di 800-1000 atleti annuali e ha solo preso 38 medaglie VKF dal 2015, tra l'altro vincendo gli europei e i mondiali. Se può parlare tanto, nel 2021 fa l'esordio d'allenatore e vince tutti i campionati europei e tra l'altro poi andremo avanti con l'intervista, l'unico attualmente maestro italiano che viene addirittura convocato all'estero per le sue altissime qualità tecniche e veramente un tecnico di enorme spessore. Andiamo avanti con l'intervista. Quindi maestro, prima domanda, chi è il grande maestro Maffolini? Questo personaggio che mi ha sempre incuriosito, perché poi maestro noi siamo di età, maestro Maffolini ha raggiunto dei livelli che in Italia, penso proprio che, insomma io un po' di karate, un pochino me ne intendo, conosco un po' tutti, nessuno li ha mai raggiunti, cioè nel senso tutti abbiamo campioni nelle nostre palestre, tutti siamo bravi, tutti facciamo le gare, portiamo i ragazzi, ma qui si sta parlando veramente di un fenomeno, un fenomeno che poi vedremo più avanti, è salito sul tatami con poco di meno che la Cardin, lui sul podio, fate conto, il maestro sul podio come coach di una società civile, terzo posto la Cardin sul podio e al secondo posto sarà battaglia della polizia. Quindi fate conto voi lo spessore. Maestro, iniziamo, se no parlo solo io. Chi è? Francesco Maffolini. Lo so che è lunga, la tagliamo un po' corta, come ha fatto a creare un impero di atleti e più che altro un impero di agonisti, perché qui ragazzi si sta parlando, ragazzi si fa la gara domenica, sì, quanti dai, io mando 100 messaggi, guardiamo di convocare 100 atleti, cioè siamo su questo ordine. Maestro? No, no, è tutto molto, molto meno di quello che hai detto, sono, mi ritengo, un maldestro educatore che ha iniziato la sua carriera a 19 anni con una quindicina di bambini e si è ritrovato prima dei 30 anni ad avere i numeri che poi sono rimasti tuttora. È stato qualcosa di molto veloce, ma è stato un grande lavoro di gruppo, non tanto riferito a me come persona, ma tanto allo staff, le persone del mio staff, che sono state scelte magari, ecco, per qualità umane e poi hanno nei vari ambiti sviluppato competenze e professionalità che poi hanno fatto la differenza. Ma, e poi andiamo avanti, la lista è abbastanza lunga, allenatore della Nazionale Filcam Universitario, allenatore dei paracarate, successi strepitosi fino ad arrivare poi, maestro, ecco un po' la domanda club, anche per quello sono venuto fino qui in Valcamonica, l'hanno chiamato ad allenare il Lussemburgo. Quindi, chiamiamoci bene, l'unico maestro italiano a ricoprire un incarico così importante da prendere una Nazionale del Lussemburgo, diciamo, medio, buona, possiamo dirlo, e però con l'obiettivo di portarla ad alti livelli come è abituato lei, maestro. Ma adesso ho avuto questo grandissimo onore di essere contattato dal presidente del Lussemburgo, la cosa mi ha onorato, era un momento di pausa con la Nazionale Italiana, diciamo, e ho accolto questa, chiamiamola, sfida, questo progetto, con entusiasmo, perché sono stato messo nelle condizioni di poter operare veramente al 100%. E maestro, parliamo di qualcosa di tecnico, lei ha preso in mano la situazione, so che ha portato questi ragazzi già a un buon livello tecnico, li ha corretti, ci sta lavorando tanto, tra l'altro, proprio in questa occasione li ho conosciuti di persona, perché praticamente, questa nostalgia che dura dieci giorni, dove vi ripeto, ci sono i migliori atleti italiani ed internazionali, alcuni, anche perché se no forse non ci stiamo, ci stiamo parlando di un centinaio di atleti, non dieci, quindici. So maestro che li ha convertiti, li sta convertendo un po' dallo Shotokan, forse Shito, qual è la linea tecnica? Io ho avuto la fortuna, nella mia carriera, di praticare ed abbracciare sia l'area Shorin che l'area Shoray, e reputo che sia importante abbinare come un vestito lo stile alle caratteristiche di ogni atleta, per cui sono stato abituato a farlo un po' per necessità, perché alla Master Happy poi sono iniziato ad arrivare atleti da ogni dove, per cui arrivava l'atleta agonista di Catà, io lo guardavo, guardavo le sue caratteristiche e cercavo di imbroccare, diciamo così, l'area di appartenenza, che più lì si sposava in base alle caratteristiche. È un lavoraccio, perché avere le competenze in entrambe le aree è molto, molto complicato, anch'io mi appoggio a volte anche a colleghi per comprendere meglio anche, soprattutto, il significato di alcune gestualità, però diciamo che ci provo, ecco, maldestramente ci provo, e il numero dei Catà dal punto di vista agonistico sono limitati, per cui ci sono generalmente sei Catà di aria Shorin che vanno per la maggiore, per aria Shorin, quindi lo Shotokan, il Gensei Ryu, eccetera, eccetera, e un sette, otto Catà di aria Shoray, quindi noi Catà neanche sono due milioni in ambiente agonistico, per cui si può arrivare a poter sviluppare una buona competenza in entrambi gli stili. Ok maestro, poi un'altra domanda proprio che è personale, quella mi viene un po' in mente, già da un po' che mi gira per la testa, ma come fa un tecnico come lei ad avere, ho parlato prima di almeno, minimo, 800 atleti, sì che si parla di 20, 25 collaboratori che l'aiutano, una ventina di collaboratori che l'aiutano in Lombardia, la stragrande maggior parte delle società sono lombarde, e avere questo grosso impegno addirittura all'estero, a Lussemburgo, ce la farà il grande Maffolini, la società rimarrà forte, equilibrata come è sempre stata, gli impegni verranno rispettati, gli appuntamenti verranno rispettati, nonostante lei giustamente ha degli incarichi anche all'estero, come facciamo? Diciamo che è tutto questione di organizzazione, di business planning, quindi di organizzazione. Io, nelle condizioni che ho chiesto alla dirigenza di Lussemburgo, ho dato quella dell'intervento in questo momento e di una volta al mese, di un weekend, quindi a mia scelta, per cui in questo momento riesco tranquillamente a gestire questo impegno, questo non vuol dire che lo prenda sotto gamba, anzi, continuo costantemente a visionare video e a preparare il lavoro che poi faccio fare in Lussemburgo piuttosto che qua in Italia. Per quanto riguarda la Master Up di SKF e CBL rimarrà assolutamente, abbiamo progetti sempre più all'avanguardia, siamo reduci da un 2023 molto molto particolare, che ci ha visti protagonisti anche di iniziative come creazione di un monumento piuttosto che la titolazione di una rotonda a tema, sono opere che in Italia prima non sono mai state affrontate, siamo riusciti in questo intento, è un qualcosa che rimarrà per il karate, per l'amore che abbiamo verso il karatedo e verso questa disciplina che a livello educativo e formativo regala tantissimo, a livello umano ancora di più, per cui per me ce la facciamo. Bene, siamo fiduciosi e proprio sulle orme dell'ultima frase del Maestro l'unico monumento in Italia del karate, nessuno ci aveva mai pensato, nessuno ci ha mai dedicato forse l'idea, l'impegno, perché poi mi immagino fare un monumento con la cerimonia, si era avuto il sindaco, tutte le autorità, però questo lo svegliamo ai nostri amici del Tempio Massimo, a quattro occhi, ieri il Maestro mi ha confessato tre motivi principali perché ha voluto fare questo monumento che poi sono, diciamo, tra virgolette, la sua missione del karate, cioè come vede lei il karate? Questa era l'ultima domanda, come vede lei il karate? Tre fondamentali, una spiegazione bellissima che mi ha veramente colpito nel cuore, ciò dica anche a noi. Allora, sostanzialmente, è riportata sulla base della struttura del monumento, la frase, il karate è uno strumento per combattere odio, invidia e ignoranza. Praticamente tutto il movimento del karate che portiamo avanti è fatto nella direzione di promuovere esattamente l'opposto, quindi amore compassionevole, inteso proprio quasi in forma buddhistica dal termine, cioè il vedere un ragazzo che ha bisogno una persona tramite il karate aiutarlo, aiutarlo umanamente e farlo con l'esatto opposto dell'invidia, quindi con la generosità, con generosità e infine promuovere la curiosa ricerca, quindi combattere odio, invidia e ignoranza, l'esatto opposto appunto è amore compassionevole, generosità e curiosa ricerca. Questo è, non è diciamo fuffa, non sono parole al vento, ma è quello che facciamo con il suo Dalizio e con l'onore di rappresentare da sempre, da sempre. Facciamo questo, chi viene lo sa che è così. Cerchiamo di farlo al massimo delle nostre possibilità, ecco in maniera diciamo privata, diamo l'appoggio logistico per poter stare, per poter dormire senza pagare nulla, diamo un apporto professionale cercando di abbattere i costi, di non avere costi praticamente. Questo grazie a tutta un'organizzazione che è privata, grazie agli sponsor, grazie a tante persone che ci vogliono bene e che credono che il nostro progetto sia un servizio di utilità sociale che in realtà è. Quindi il filo conduttore della mia vita, della promozione del karate, è appunto quella frase che, come dicevo prima, abbiamo voluto scrivere sulla base della struttura del monumento. Quindi tre principi fondamentali anche che veramente vanno di pari passi, pari passo col karate che tutti dovrebbero adottare, sempre per un miglioramento continuo della persona, quindi di rispetto, di rispecchio sempre anche nella società, quindi creare e formare persone sane, buone, di sani principi, per avere una società sempre buona di sani principi. Questo sarebbe anche l'obiettivo del karate. Quindi maestro Maffolini, un grazie, grazie per avermi accettato, grazie per l'invito. Per me è stato un onore fare questa intervista, che ripeto, con uno dei più grandi allenatori, a questo punto possiamo dire, italiani, ma anche internazionali, con dei numeri veramente da capogiro, penso che in pochi, 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 forse nessuno possono fare. Grazie maestro, al prossimo stascio. Grazie, grazie a tutti per l'attenzione. Allora, ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video del Tempio e mi raccomando, fate un salto in Val Camonica, venite di allenare qua, si mangia benissimo, fresco da morire. Ciao dal Tempio. Ciao. 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 Ciao.